Sono Giuseppe, sono nato, come tutti avete notato, a Bressanone, sono cresciuto a Bressanone, si capisce dal mio accento, e per oggi, siccome sono un po' così con voi, parliamo in romanesco, romanaccio, se per voi non è il problema. Ho fatto un po' di roba, ho fatto in passato il CTO di qualche azienda e il CPO di qualche altra azienda, e adesso sono i Facile.it, che conoscerete tutti, perché è Facile.it, Facile.it e Facile.it, dove abbiamo anche una clac, ci siamo portati la clac, mi raccomando ragazzi, aiutatemi. Oggi parliamo di cicatrici di prodotto, quindi mi dispiace, non sarà una presentazione di quelle ultra sofisticate sulle tecniche di Product Strategy, ma parlerà di cose un pochino più, già a terra terra, che ci servono a sopravvivere mentre facciamo prodotto, e quindi vi racconterò un po' di schiaffi che ho preso nella vita, e magari anche come qualche hint per risolverlo, insomma, per fare. Cicatrice numero uno. Allora, la prima cosa, la prima cosa che, diciamo, che succede quando si va in un'azienda e si comincia a fare prodotto, e che ho visto fare a molti, anche persone che lavoravano con me, è arrivare in un'azienda e dire, ok, da oggi in poi tutti voi lavorate per me, business, tecnologia, UX, arriva il Product Manager e dice, il CEO, no? Come si dice, il CEO, che CEO di che? Non siete il CEO di nulla, questo lo devi mettere in testa, non siete il CEO di nulla. e in realtà la cosa è molto più complessa, il prodotto è qualcosa di molto più complesso e secondo me bisogna essere consci del fatto che voi siete al centro di un sistema molto più complicato, che non ci siete voi che decidete, ma ci sono delle persone che conoscono molto meglio il dominio di quanto non possiate fare voi, per esempio. Voi avete comunque, come Product Manager, siete dei generalisti e dovete essere generalisti, che è la cosa che vi contraddistingue e che vi fa avere anche quel vantaggio, dovete fare sempre domande stupide e vi dovete appoggiare sulle competenze di tante altre persone che lavorano con voi, tecnologia, business, UX e così via. L'azienda funziona in due modi, c'è una parte dell'azienda che produce valore e che produce valore nel mercato, lo emette nel mercato, cercando di soddisfare dei bisogni degli utenti, e un'altra parte dell'azienda che cerca di monetizzare, quindi creare valore per l'azienda stessa, quindi monetizzando questo valore che ha messo sul mercato. E questo è un circolo e voi siete là in mezzo. Essendo al centro di questo circolo, evidentemente capite da soli che non siete voi che decidete o che fate da soli, ma dovete essere quelli che coordinano gli input di una serie di funzioni e di una serie di competenze. Quindi, mi raccomando, siate molto umili e cercate di gestire il vostro ego in modo tale che possiate recepire gli input degli altri e usare le competenze degli altri. Andiamo avanti. Secondo slide. Questa è una che ho imparato a mie spese e che qualcuno qui in questa audience probabilmente che sta ridendo adesso conosce e ha subito anche lui. Quando andate in un'azienda o quando prendete il possesso di prodotto, di una linea di prodotto o comunque della competenza, dovete, come product manager, una delle vostre responsabilità è quella di comunicare e di comunicare all'azienda esattamente come avete intenzione di lavorare. Se non lo fate, quello che succede è che qualcuno ve la imporrà. Se non voi non date chiarezza alla compagnia, a tutta la compagnia, a tutta l'azienda, di come volete gestire, dove sono gli entry point, dove gli altri possono influenzare, per esempio, lo sviluppo del prodotto, dove si può intervenire, dove si possono raccogliere le informazioni. Se non dite banalmente, ci vediamo ogni settimana qui e vi faccio la demo, ci vediamo ogni mese in cui discutiamo le priorità, i goal del prossimo trimestre o del prossimo mese, ci vediamo ogni due settimane per capire come vanno le capitali, le metriche che fanno riferimento al goal che ci avevamo dati il mese scorso, l'azienda prenderà o il CEO o qualcuno del business o un project manager, qualunque, ho detto la parola al project manager, vi imporrà una governance, un modo di lavorare che non è il vostro. Quindi prima lo fate, meglio è, non potete dare per scontato che tutti quanti vengano dietro se non gli dite come devono partecipare a fare il prodotto, anche loro. E una cosa molto importante è che dovete comunicare, e dovete comunicare, e dovete comunicare, capito Raffaele? Dovete comunicare, cioè è importante che voi capiate che una parte del vostro lavoro è quello di think the people, come dice Lenny Racischi, no? Cioè, think the people vuol dire che dovete portarvi dietro tutte le persone, se non comunicate l'azienda dietro l'onda l'ha portato. Cicatrice numero tre, trust is earned and never given. Non è che se voi avete il titolo di prodotto manager, tutti quanti vengono là e vengono a dire, ah, è arrivato Dio in terra, è arrivato il prodotto manager, il resto viene, sa tutto lui, fa tutto lui, non vi crederà nessuno. Il trust ve lo dovete conquistare del giorno per giorno, nel modo in cui fate il prodotto, nel modo in cui comunicate, come dicevo prima, nel modo in cui vi portate dietro le persone. Una tecnica che, qui andiamo un po' più sul concreto, che io vi consiglio è quella di, e qui qualcuno mi ucciderà però, vabbè, lo dico, è quella di avere un budget per creare trust. Il budget per creare trust è praticamente dedicare, adesso non so se voi amate Scrum, non usate Scrum, possiamo parlare di story point, io non lo amo particolarmente, ma va bene. Dedicate del budget, allocate del tempo vostro, anche piccolo, ogni sprint, ogni iterazione che fate, per soddisfare delle esigenze di qualcuno, ma che magari hanno anche un piccolo valore, diciamo, per l'utente, o un piccolo valore per l'azienda, cioè il ROI magari non è elevato, però hanno un grandissimo valore all'interno dell'azienda. Cioè il vostro ecosistema non è solo creare valore per l'utente, ma è essere in grado di creare valore per l'utente, e creare trust vi permetterà di creare più facilmente questo valore. Quindi fate due o tre cosette che magari, che ne so, arriva il CFO che gli serve una cosa, o il CEO che ha bisogno di quella feature, che a voi non ne frega nulla, che non si diceva niente, ma vi costa talmente poco, che vi aiuta a creare trust. Cioè, vedi che però, vedete, una persona che è un lei, è una persona che è affidabile, che fa le cose, è così col poter contare, e così via. Questo è un budget che voi fate, che voi avete a disposizione, ovviamente non può essere grande, deve essere il minimo sufficiente per poter creare questo trust con di stakeholder. La numero quattro. Allora, tutti parliamo del famosissimo lead startup, no, che bello, ah, c'è il ciclo, ah, measure, build, measure, learn, che figo, poi tu vai a vedere la bella feature factory, capito, che tutti quanti hanno una lista di cose da fare, ma che measure, ma che learn, ma che fai, fai, no? E che stiamo a fare? Eh, e fai, e andiamo, clicca. Allora, questa mi sono auto-menzionato, questa è una cosa che a un certo punto mi sono reso conto che me la sono scritta, e ve la faccio già, ve la dico, molti parlano di digital transformation, molti parlano di, ah, product lead company, così, ah, quando senti queste cose, la verità è che il 99% delle volte c'è una compagnia, c'è un'azienda che ha un problema di delivery, cioè, non funziona la delivery, non funziona la parte che fa le cose, ma sono anche i ragazzi di tecnologia qua, però abbiamo un problema di come organizzare quella parte lì, e loro pensano che dice, ah, arriva prodotto, ci aggiusta, in realtà, ci aggiusta la parte di delivery, non è che deve fare prodotto. Ora, questa è una situazione molto comune, che non auguro a nessuno, però la verità è che c'è, però, anche qui, se, grazie, scusami, mi piace questo clicker umano, funziona bene. Il punto qui qual è? È che in realtà è anche un vostro problema, cioè, non è colpa vostra che la delivery non funzioni, ma è anche un vostro problema. Non si può fare prodotto senza una delivery che funzioni, perfettamente. Quindi, dovete prendere questa come un'occasione nel vostro processo, diciamo, di evoluzione della funzione di prodotto, del vostro ruolo di product manager, e lavorare col team, se siete dei product manager, lavorare, se siete product leader, lavorare un pochino, come un respiro un pochino più ampio, ma è vostra responsabilità far sì che questa cosa funzioni, perché se non riuscite a fare prodotto, non riuscirete a fare prodotto se non avete una delivery che funzioni a, non dico alla perfezione, ma bene. Questa è un'altra di quelle cose che può far creare trust. Perché? Perché se il problema aziendale è una delivery che non funziona, è inutile che vi mette da fare le, come dire, le... Tutti questi... Cioè, non dovete andare troppo in là, ma dovete stare con i piedi per terra e fare le cose una dopo l'altra. Voli Pindarici, non mi veniva Voli Pindarici, ma è se non è venuto. Scusami, vai avanti. Andiamo alla scar numero 5, cicatrice numero 5. Questa è un pochino relativa a... Questa slide l'ho rubata da una nostra amica precedente, una foto. Questa è relativa un po' a quello che ci siamo detti prima. Questa è una storia abbastanza... che si ripete abbastanza spesso che riguarda il debito tecnico. Non so se mi è mai capitato che c'è del debito tecnico. Dove andate... Ah, no, sta roba non si può fare perché abbiamo il debito tecnico e dobbiamo metterci lì, la dobbiamo rifarci... Ci vogliono sei mesi per fare una cosa, no? Allora, il debito tecnico non è una roba di prodotto. Cioè, è una roba di tecnologia, no? E l'approccio che io, diciamo, sponsorizzo è quello che il debito tecnico non è che si fa una volta sola. Cioè, è una responsabilità di ognuno. Io faccio prodotto, fai tecnologia. Cioè, guarda un po' a casa tua. Cioè, se c'è una finestra rotta, riparala, no? Cioè, non è che io ti posso dire ogni volta di riparare. Soprattutto io non è che ti devo dire ogni mattina, lavati i denti. Non so se avete letto quella che mi piace molto. non è che ci sta nel calendario lavati i denti o fatti la doccia. Lo fai, punto, no? Non è divertente, non è bello. Lo sai che per non andare al dentista lo devi fare, no? E quindi questa cosa, secondo me, è responsabilità di tecnologia. Però, c'è anche una responsabilità vostra che è relativa a quello che dicevo prima. Cioè, la delivery. Se voi non avete una delivery, cioè il sistema che dovete creare tutti insieme, insieme a tecnologia e agli altri, è un sistema che crea continuamente un flusso di valore. Poi, non dovete essere ossessionati dal sistema stesso, ma dovete essere ossessionati dalla creazione del valore come product manager. Il problema è che se non avete la delivery che funziona, sto valore non esce mai, rimane sempre incallato. Quindi, non siete, non è roba vostra, ma comunque dovete capirlo, dovete sostenere, nel caso dovete anche allocare un po' di tempo e di amore a questa cosa. Qui, come al solito, combattete chiunque vi dica che bisogna, perché ci sono gli sviluppatori, se sono sviluppatori, c'è più anche io, quindi so esattamente di cosa parlo. C'è questa tendenza a dover riscrivere tutto da zero, soprattutto quando non l'hanno scritto loro. Il not invented here è uno dei quei bias, siete ridi, salvo ridi, di cui, insomma, spesso chi fa codice, come dire, si sente un po' preso dal fatto che se non l'ho fatto io non va bene, lo devo riscrivere, no? Questo voi dovete un po' combatterlo e aiutare i ragazzi a capire che si può fare un po' alla volta sta cosa e non spendere un anno a fare nulla. Andiamo avanti. Cicatrice numero sei. Ah, questa è bellissima. Allora, questa è un pochino più complessa. Ci sono delle situazioni in cui ci sono delle dipendenze. Quindi tu dici, ah, guarda, c'è un prodotto fichissimo, no? Però sto prodotto, comunque l'idea di prodotto, una feature nuova e così via. Questa cosa tocca n diverse parti dell'azienda e soprattutto tocca diversi prodotti team con diversi prodotti manager, diversi delivery manager, prodotti sviluppatori e così via. In realtà, se volete fare una cosa del genere e poi vorremmo andare avanti, è molto complesso distribuire, organizzarsi e distribuire quella porzione di lavoro da fare su ogni team differente. Ma è molto più, come dire, facile, molto più efficiente creare un team che abbia la capacità di essere indipendente e perseguire un obiettivo chiaro. Qualcuno qui dentro che lavora con me che ride, che adesso ride, ci ha lasciato due anni di vita, però sa di che cosa parlo. Ci abbiamo vari esempi, anche qui ce ne abbiamo altri. Comunque, le dipendenze, gestire le dipendenze di n team e cercare di combattere per mettere item nel backlog di diversi team diventa complesso, molto complesso. Quindi, il mio consiglio è parlare con chi di dovere, cercate di prendere, di formare un team con delle competenze per ogni area, metterci un product manager di un certo tipo o dare un obiettivo a quel team in modo tale che loro possano essere indipendenti e perseguire quell'obiettivo. La numero sette, questa è bellissima, e questa adesso, lo so che adesso non Marco me mena, però, allora, io vi voglio bene a tutti, voglio bene a tutti quanti, però c'è una piccolissima differenza, che non è tanto piccola, tra, diciamo, quello che si studia è la realtà, cioè, non è che se io leggo la biografia, questo vuol dire, non è che se io leggo la biografia di Steve Jobs divento Steve Jobs, io comunque, so, io ci ho provato, ma non mi è riuscito, come vedete, no? La raccomandazione, e io capisco che c'è l'hype del product management e tutto quello, però la raccomandazione è che dovete essere molto, come dire, smart, molto intelligenti, molto down to earth, cioè, molto presenti a voi stessi, e capire da quello che imparate dalla letteratura, che sono concetti bellissimi e assolutamente validi, quali sono i principi da tirar fuori e come applicarli in determinati contesti. Adesso ci torniamo un pochino con un'altra cicatrice, però è importante che non prendiate un libro e dal giorno 1 cominciate in un'azienda che non sa neanche cosa vuol dire prodotto a fare marty cagan della situazione, cioè, bravissimo marty cagan, però ecco, lui dà dei principi, è un percorso quello che si fa. E questo è l'altro, questo lo so che è un po' vecchia per, non c'ho 35 anni, è René 16 di male per i 35 anni, lo so che Daniela ride, lo so, si vede che non c'ho 35 anni, lo so. Quel film è importantissimo perché insegna che cosa vuol dire fare uno step alla volta, fare il kata, anche non capire cosa si sta facendo ma allenarsi, cercare di diventare sempre più bravi e poi passare allo step successivo e capire esattamente e fare lo stretch e andare e complicare un po' andare nel livello successivo di complicazioni. non funziona che prendete un libro, prendete concetti, prendete, che ne so, Empower, prendete Inspired e lo cercate di applicare il giorno uno se non avete mai fatto prodotto in un'azienda che non ha mai fatto prodotto. Bisogna partire dalle basi, dalle cose più semplici e giorno dopo giorno cercare di arrivare a quel livello di sofisticazione. La numero no, abbiamo quasi finito, adesso sono solo 152, quindi ce l'avete tutta la sera, l'avete mangiato? Eh, lo so. Questo è un altro esempio di che cosa? Yokear, questo è un altro hype bellissimo, Yokear, Google Yokear, che figata, andiamo a fare tutti Yokear, diventeremo tutti Google. Eh, buona fortuna, cioè, voglio vedere, io ho visto gente piangere, gente che stava mesi dentro a scrivere Yokear su Yokear, cioè, dici, che cosa hai fatto questo mese? Ho fatto Yokear, però hai creato valore? No, però c'è un Yokear bellissimo, cioè, in realtà, cioè, io partirei da cose un pochino più semplici, Yokear è una cosa complicatissima, soprattutto farlo at scale, farlo in aziende grandi, farlo, cioè, in aziende che magari non hanno mai lavorato insieme, Yokear, la prima volta che le fai è la lista della spesa delle cose da fare, cioè, la classica, la prima iterazione di Yokear che ho visto è sempre detto, Yokear qual è? Yokear è che domani, entro domani devi fare questo, siamo più bravi a fare questo e qual è il risultato? Che domani abbiamo fatto questo, dopo domani abbiamo fatto quest'altro e in un mese abbiamo fatto un'altra cosa. Quindi, piano con Yokear, partite dalle cose basi, cioè, se partite da un'ipotesi, create un'ipotesi, già se voi create un'ipotesi e create e discutete su come misurare il successo, cioè, su come, qual è la metrica che definisce quel successo, quell'ipotesi di un successo, quell'ipotesi verificata, già state un passo avanti. Cioè, ci sono aziende che non hanno neanche la baseline da come partire, il valore maggiore nella discussione che si ha con tutti gli stakeholder o chi partecipa a fare il prodotto, su definire qual è la metrica, qual è il successo, qual è il livello che deve raggiungere quella metrica, che sono, un conversion rate più 30%, sì, come non misuro quel conversion rate? E lì inizia la discussione, ma questo vuol dire che? Ah, questo è tutto, il valore sta lì, quindi partite dalle cose semplici, già questo vi fa cambiare la vita, già non c'è bisogno di occhiare, cioè fate ipotesi, cercate di definire le metriche e cercate di definire quello che volete, dove volete arrivare con le metriche. E poi, soprattutto, se no, cioè, che occhiare puoi fare se poi non c'è? C'è qualcuno che arrivi, questo mi è piaciuto, eh? No, dicevo, gli occhiare se potete non misurare nulla, cioè, gli occhiare che sono chi risalza diventa difficile. Questa è divertente, questa è un po' complicata, però, è un po' difficile. Non so se chi di voi ha mai avuto a che fare con il budget, con il processo di budget? Nessuno? Ok. Chi di voi ha mai avuto, si è trovato nel processo di budget a un certo punto, dice, era un'iniziativa che in quel preciso mese, in quel preciso giorno del mese, portava un uplift di, che ne so, del 20% dei revenue o di qualsiasi cosa. nessuno ha avuto questa, eccola. E poi, dopo lì, a rincorrere, dice, ma come hai fatto? Allora, la verità è che quando si fanno queste trasformazioni digitali, e comunque di prod, è vero, ma il problema più grosso è la parte finanziaria, cioè il processo di budget. Qui dovete essere molto attenti, dovete andare dal vostro capo, da voi stessi, dal CFO, e dite, sediamoci un attimo a tavolino, fammi vedere che cosa hai fatto, così non ho delle sorprese, e fatemi capire se nel budget che hai fatto ci sono delle assunzioni calate dal, non lo so, che venute fuori dal nulla, che mi costringono poi a non fare prodotto, ma a fare project management per poter arrivare a quella cosa che poi ovviamente non si verifica come tutti i budget, perché i budget annuali a meno che non hai una palla di cristallo solo un po' così, perché manca un pezzo? Ecco, vabbè, questo però ce l'abbiamo detto. Va bene, andiamo avanti, questo l'abbiamo detto, non c'è problema, scar numero 11, ah, eh, questa è una raccomandazione, qua parliamo di product market fit, product market fit, allora, il product market fit è non so, vorrei parlarvi di facile che ha raggiunto il product market fit facendo la comparazione di assicurazioni online, al telefono vorrei dire più che online, però insomma online. Questo è un product market fit che ha creato tantissimo valore, facendo un'azienda di successo, ma quel product market fit non è che rimane lì se non fa niente, quel product market fit per condizioni di mercato, per competitor, per cosa, comincia, come dire, ad assottigliarsi, comunque, ha bisogno di amore. Quindi, è vostra responsabilità capire, come quando farete la vostra product strategy, capire come, diciamo, bilanciare le iniziative che servono a difendere quel product market fit, che servono a capire come non perdere il competitive advantage che avete già trovato, rispetto a iniziative che invece sono più offence, cioè che portano avanti l'azienda e che danno, creano il next competitive advantage. E qui, ovviamente, non c'è una regola, dipende dalla situazione dell'azienda. Se l'azienda è super perfetta, non c'è la tecnologia che c'è dietro è top notch, le feature che abbiamo sul prodotto sono immense, funzionano da Dio, la user experience è fantastica e non c'è bisogno di detencarla, allora c'è anche più spazio per mettere l'analisi sulla parte di offence. Se vedete che l'azienda ha un debito tecnico infinito che non vi permette di fare prodotto, che ha una user experience, che fa acqua da tutte le parti, i processi sono tutti manuali e così via e vedete che ci sono dei competitor che avanzano e che stanno mangiando il vostro piatto, forse vi conviene essere un pochino più sulla difensiva e cercare di riprendere, di difendere il vostro market fit corrente che è quello che paga poi gli stipendi dell'azienda perché quella è una scommessa sull'offenza. Andiamo avanti. Numero 12, ci siamo quasi, ancora 179. Allora, questa è un'altra molto interessante qui, questa soprattutto per ragazzi di facile, forse, non so se l'hanno capita, avete capito? Allora, molte cose che vedo, cioè molte cicatrici che ho sono dovute al fatto che spesso io pensavo di fare un prodotto e dici vabbè ma ho fatto questo prodotto e agli utenti gli piacerà perché è figo l'ho fatto io, abbiamo fatto insieme agli altri, ti pare che non vola questo prodotto? La verità è che tu vuoi fare tutti i prodotti che vuoi ma se non lo comunichi e se non c'è un piano per fare l'adoption di questo prodotto non va da nessuna parte quindi che vi piaccia o no, lo so che poi c'è il product manager, il marketing manager e così via, c'è sempre questa storia tra marketing e prodotto però che vi piaccia o no con marketing ci dovete parlare ci dovete parlare e dovete avere una strategia di una strategia di go to life dovete andare dovete andare e dovete far sì che questa strategia di crescita ci sia quindi parlate con i vostri amichetti vanno avanti di marketing e cercate di definire come volete comunicare al vostro sperando che abbiate un customer segment target che dovreste avere perché se non avete fatto un buon prodotto se non avete in mente a chi lo volete vendere parlate con i vostri amici di marketing se non avete cioè se ce l'avete se non ce l'avete fatelo voi insomma allora un'altra grandissima scappata ieri ci ho pensato forse la tolgo invece no ce l'ha lasciata non ho dimenticato questa in realtà parla di un errore che anche io ho fatto spesso che non ho mai non ho mai in alcune occasioni non ho valutato bene quale fosse la grandezza dell'opportunità cioè la dimensione dell'opportunità ci sono delle tecniche molto molto semplici che servono a capire se quando dovete priorizzare una cosa quanto questa cosa abbia impatto o meno soprattutto quando si tratta di nuovi prodotti o di nuovi uffici cioè io ho visto spesso anche in facile parlare di alcuni prodotti nuovi che stiamo facendo e le discussioni nelle discussioni mancava una cosa di base che è calcolare il mercato cioè il TAM il SAM e il SOM sono dei concetti molto addressable market serviceable market addressable market e attainable market sono dei concetti anche abbastanza facili che hanno bisogno di un pochino di impegno per cercare le informazioni ma almeno vi aiutano a capire se sta roba c'ha un mercato ci potrebbe avere un mercato o no io ho visto fare investimenti sulla base del nulla e poi ah ma forse sono solo tre gli utenti in tutta Italia in tutto il mondo che potrebbero beneficiare ah abbiamo investito solo tre anni per fare contenti tre utenti queste cose ecco magari se lo facciamo prima non sarebbe male vi piace il mio accento alto tesino? se volete posso passare all'abruzzese però purtroppo ragazzi lo so è molto base questo talk volerei farlo un pochino più sofisticato però la verità è che il 90% del vostro lavoro delle vostre giornate le passate a gestire queste cose è buona opportuna a trovare un po' del market fit parlando senza parlare con gli utenti e purtroppo la verità è che ci troviamo spesso a fare cose perché ci ha detto il CEO perché piacciono al CEO perché piacciono a noi perché la moglie del CEO la fidanzata il cugino della donna di servizio del uomo di servizio del CEO ha detto che c'era questa cosa che è importante e quindi tutti a fare questa cosa perché se l'ha detto a lui una volta mi chiamò diciamo un amico del padrone dell'azienda dove lavoravo che faceva guarda caso il CEO di una grandissima banca italiana mi chiamò il telefono perché a lui in applicazione c'era una cosa che non gli tornava agli ordini però insomma diciamo che era un po' un news case molto particolare però io vi consiglio di fare di parlare con gli utenti di fare di fare quello che si chiama Continuous Discovery che è un concetto di Teresa Torres che potete tranquillamente vedere su internet o comprare il libro a prescindere da quello che c'è scritto uno specifico da Teresa Torres l'idea è quella di avere il team che veramente parli con gli utenti che se avete dei negozi che vi mandate mandare i negozi avete i call center mettetevi in cuffia e sentite quello che vi dicono se avete online ci sono tonnellate di possibilità per farlo da Hotjar a qualsiasi tool di product analytics insomma fate anche dei survey fate degli usability test fate dei focus group fate quello che vi pare però insomma ci dovete parlare con gli utenti gli utenti sono quelli che vi dicono se stai facendo qualcosa di giusto o sbagliato parlo della parte qualitativa ovviamente poi c'è la parte quantitativa che mi dà un altro tipo di diciamo di informazioni però in questo caso parliamo di quella più qualitativa che l'altro questa purtroppo ce l'ho messa perché alla fine ho dovuto togliere quella ci ho messo questa qui perché per me è importante e questa non c'entra niente col prodotto questa c'entra con la vita secondo me per fare prodotto è fondamentale creare un certo tipo di cultura poi vai avanti la cultura è la cultura che è descritta molto bene da Carol Dweck che vi consiglio di leggere che parla di growth mindset e ha a che fare un po' con quello che ci siamo detti all'inizio che era quello di avere il loro ego di non avere questo ego così forte non so se conoscete Carol Dweck e quello che dice sulla growth mindset era una psicologa che ha fatto scritto ha fatto un studio molto importante sui bambini e poi l'ha esteso agli adulti e ha definito i tratti caratteriali di un approccio fixed mindset e growth mindset growth mindset sono quelle persone che vedono sempre un'opportunità nella difficoltà che non si frustrano quando ci sono cose che non riescono a fare che hanno un'attitudine quando vedono qualcuno avere successo non sono invidiosi ma dicono ah cavolo non ce l'ha fatta ce la posso fare anche io quando che dicono sempre non ce l'ho non ce l'ho fatta ancora che riprovano a rifare che cercano di imparare dai propri errori che non vedono un fallimento non vedono un'opportunità di crescita di learning e questa cosa per fare prodotto è fondamentale perché il 90% delle volte prenderete schiaffi dai vostri utenti dalle vostre idee pensate di avere soluzioni in realtà probabilmente se siete fortunati sarete tra il 10 e il 20% di successo delle cose che proverete a fare quindi se non avete questa mentalità del non frustrarsi dal fallimento ma dall'imparare da quello che non è andato benissimo e di riprovarci e riprovarci finché non si diventa diciamo bravi a fare le cose secondo me non si va da nessuna parte benissimo quindi ho tagliato le ultime 150 slide e arriviamo al wrap up wrap up quindi comunicate 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 cercate di essere molto umili in quello che fate cercate di capire che voi in realtà non sapete neanche il vostro ceo lo sa probabilmente cercate di capire dove state lavorando le aziende sono diverse non tutti i contesti sono uguali sono aziende più mature dove potete come dire fare alcune tecniche mettere in atto alcune tecniche aziende molto meno mature che hanno bisogno di partire dalle basi se non misurate non riuscirete a fare prodotto e il mio consiglio è misurare anche voi stessi perché quello che si applica al prodotto si applica anche a come si fa prodotto quindi al product management quando fate una feature nuova un prodotto nuovo cercate di capire com'è com'è questa feature doveva essere cioè l'adozione di questa feature qual è il target del customer segment che volete indirizzare come lo potete comunicare come lo deve far crescere tramite newsletter tramite marketing tramite paid marketing non so quello che sia insomma cercate di essere ossessionati dalla creazione di valore quindi il sistema che include anche la delivery deve funzionare perfettamente se passate più tempo a fare retrospettive c'è un problema se il team di sviluppo fa solo retrospettive dove sta a salvo? cioè fa retrospettive per review code review e non fa codice oppure se voi passate solo tempo a scrivere o chiare e non parlare con gli utenti cioè diventa complesso vabbè questa è vecchia ce la risparmiamo cioè cercate di di pensare in grande però partire in piccolo e cercare di muovere velocemente cercate di capire di sviluppare questa attitudine questa growth mindset questa è una cosa che si può imparare è proprio quello che fa la differenza la fixed mindset prezza e sono delle persone che credono che tutte le cose vengono dal cielo da qualche dio se voi credete da qualche dio mentre growth mindset è quelli che hanno l'attitudine di imparare di riprovare finché non ci riesco e questa mi piaceva quindi ci ho commesso non lo so c'entra niente però no è che spesso perché quando si parla di product management spesso o comunque di product development si dice ah no perché è cambiamento bisogna cambiare tutto 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 poi parli con le persone non cambiano nulla di quello che sono però magari ecco se vuoi cambiare qualcosa ecco magari devi essere il primo a cercare di fare le cose in maniera diversa rispetto a come come fanno tutti gli altri e quelli che non ti piacciono soprattutto e va bene poi vediamo un po' che c'è di altro ecco abbiamo finito quindi ci abbiamo questions applaus